il giochino è indovinate chi c'è dietro la mascherina perché siete abituati grazie al cielo a vederci normalmente senza mascherina facciamo tamponi spesso certo ma come anticipavamo qualche minuto fa questa seconda ora inizia con l'ospite che è il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini quindi siamo in tre e allora facciamo le cose ecco dietro la mascherina c'è lui Stefano Bonaccini foriero tra l'altro di buone notizie spero anche perché abbiamo visto che i dati stanno migliorando in tantissime regioni italiane intravediamo la zona gialla con meno restrizioni ora oggi è giovedì si esprime domani il comitato tecnico scientifico sulla base dei dati che vengono consegnati settimanalmente posso dire perché poi sono loro che devono ufficializzarlo ma mi pare che tutto porti ad essere zona gialla già da lunedì i dati sono molto migliorati perché noi avevamo avuto un R conti cioè l'indice di trasmissione con cui ogni persona può contagiare altre che era arrivata 1,39 sapete che sopra 1,25 si è zona rossa sopra l'1 si è zona arancione oggi siamo attorno allo 0,70 0,75 credo vedrò i dati domani e il numero di contagiati ogni 100.000 abitanti che se è superiore a 250 determina immediatamente la zona rossa eravamo arrivati a più di 500 credo saremo attorno ai 150 170 comunque anche lì vedremo il numero ma abbondantemente sotto e il dato più significativo si vuotano dei reparti cominciano sì anche se noi abbiamo ancora ben più di mille presenze circa 2000 nei reparti ospedalieri covid sono scesi di gran lunga perché erano arrivati a quasi 4.000 quindi li abbiamo più o meno dimezzati reparti terapia intensiva li abbiamo molto calati però anche nei reparti terapia intensiva abbiamo ancora centinaia di persone e i contagi per quanto stanno calando ieri quindi il numero che daremo oggi sono ancora sopra i mille bisogna stare molto attenti perché il virus non è circola queste varianti è il vero dramma voi pensate che io dico per fortuna che decisi di fare zona rossa le province di Modena ricorderete Bologna e la Romagna prima che il governo una settimana prima per fortuna l'abbiamo fatto questo ci permette di essere zona gialla già da lunedì perché in soli 15 giorni con le varianti inglesi a differenza del passato noi abbiamo riempito come non mai gli ospedali e l'età media dei contagiati è scesa 40 anni l'età media dei ricoverati poco più di 60 e purtroppo l'età media dei decessi che per fortuna stanno cominciando a calare è scesa di alcuni anni cioè era l'età media è stata spesso attorno agli 84 anni ieri l'altro l'età media dei deceduti era di 77 anni quindi le cose vanno meglio dobbiamo proseguire così arriva l'estate che è un vaccino naturale lo scorso anno ha illuso quasi tutti che era finita poi è arrivato l'autunno è tornato a circolare il virus però quest'anno abbiamo uno strumento che non avevamo l'anno scorso è quello che ucciderà definitivamente il virus i vaccini tenete conto che noi tra pochi giorni arriveremo al primo milione di vaccinati in Emilia Romagna tra seconda dose mentre sto parlando sono 418 mila gli emiliano romagnoli che hanno già ricevuto la seconda dose mentre sto parlando sono 540 mila quelli che hanno avuto almeno una dose tutti coloro che fanno AstraZeneca però la seconda dose l'avranno dopo tre mesi più avanti a differenza di Pfizer e Moderna però già quella protegge parecchio se è vero che tutti citiamo UK Gran Bretagna dove la gran parte di quelli vaccinati cioè quasi tutti comunque hanno ricevuto una dose quindi io voglio essere fiducioso guardare con fiducia al futuro noi dobbiamo pretendere che l'unione europea faccia rispettare alle multinazionali i contratti perché l'ho già detto sono state vergognose nei comportamenti nei primi quattro mesi da quando si iniziò a fine dicembre ricorderete mi pare il 27 dicembre il primo giorno in cui contemporaneamente in ognuno degli hub delle nove province cominciamo a fare la prima vaccinazione in questi quattro mesi è arrivata all'Italia meno della metà delle dosi che dovevano arrivare altrimenti parleremo di un altro film e a tutta Europa adesso cominciano arrivare si vede il cambio di passo noi abbiamo un'organizzazione che più ne arrivano più ne facciamo ne facevamo 10.000 in media perché così si poteva siamo già verso le 25.000 nei prossime settimane vogliamo arrivare a 40 50.000 perché se arrivano ma voglio dirlo a chi ci ascolta all'Italia devono arrivare 130 milioni di dose che sono 50 milioni entro fine giugno 80 milioni entro fine settembre 130 milioni di dose fossero anche qualcuno in meno alcune sono addirittura monodose johnson and johnson per alcuni milioni gli altri doppia dose ma voi fate un calcolo matematico ci sarebbero tutte le condizioni noi dobbiamo vaccinare tutti gli emiliano romagnoli mi auguro tutti gli italiani che lo vogliano fare spero siano tanti perché il vaccino su chi è stato fatto dimostra che crolla addirittura il contagio entro la fine dell'estate dobbiamo vaccinare tutto il paese ecco e lo speriamo fortemente anche per essere un po più liberi dalle restrizioni ci sono grosse polemiche per il copo di fuoco alle 22 rassicuraci anche su questo intanto volevo dare una notizia dal lunedì prossimo coloro che hanno tra i 65 e 69 anni possono telefonare prenotarsi ci sono sei modalità diverse per prenotarsi c'è il recarsi personalmente presso i cup andare nelle farmacie telefonare c'è il web con un app dedicato oppure con la mail elettronico giusto sì tra l'altro noi quando prenoti ti diciamo subito la data l'ora e il luogo e poi dal 10 maggio 60 64 anni in emilia romagna eh lo ricordiamo una volta in più perché ogni regione ci ascoltano anche da altre regioni vedo che quando si prenota in un giorno l'ultima volta per i 70 74 anni in 10 ore in 12 ore oltre 100.000 persone che hanno ricevuto la prenotazione immediatamente quindi qui le cose funzionano stiamo completando tutti gli ultrottantenni e stiamo andando molto bene sugli non ne parla mai nessuno sì ma noi stiamo vaccinando e bisogna farlo le persone disabili a partire da quelle gravi adesso faremo anche i caregiver cioè quelli che sono a fianco loro per aiutarli genitori o amici che siano e stiamo vaccinando le persone con patologie il coprifuoco guarda diciamola così sì tutto è perfettibile e alcune cose del decreto di ieri sera io le avrei fatte qualcune in maniera un po' differente però la cosa importante è che intanto da lunedì si torna a fare sport all'aperto di squadra di contatto individuale eccetera riaprono i ristoranti all'aperto non solo a pranzo ma anche a cena comincia da metà maggio a tornare a poter fare attività sportiva nelle piscine all'aperto comincia sempre da lunedì prossimo gli spettacoli i teatri i cinema anche la musica dal vivo fino a 500 persone massimo al chiuso mille persone all'aperto così sarà dal primo giugno per lo sport poi certo alcune cose potrebbero essere fatte meglio io proverò nel mio piccolo lavoro sul coprifuoco perché proprio non mi piace io proverò a convincere il governo che si possano alcune cose elasticizzare di più ad esempio io sono tra quelli che aveva detto forse le 23 può essere meglio delle 22 l'avevamo detto come presidente di regione così come il fatto che solo il primo luglio aprano le terme o i parchi tematici se le cose nelle prossime settimane vanno meglio io credo si potrà anticipare così come i ristoranti al chiuso si può provare ad anticipare quando potranno che hanno dei distanziamenti eccetera insomma lavoriamo però con giudizio perché quello che voglio dire è abbiamo passato momenti terribili dall'incubo non siamo ancora usciti le cose come ho detto stanno migliorando cominciano a riaprire alcune attività bisogna da un lato che arrivino i ristori e i sostegni subito il governo adesso si sta impegnando per quasi 40 miliardi di euro di ulteriore debito per darlo a fondo perduto a chi ha perso tanto e vanno aiutati e poi ci sono alcuni settori purtroppo che sono i più sfortunati questo del wedding che mi dicevi matrimoni sì ci sono i ragazzi che si devono sposare ci stanno scrivendo ma sai perché gli è difficile la cosa cioè perché è più drammatico delle altre perché è chiaro che se io voglio andare al ristorante me lo dicono anche una settimana prima che aprono se mi organizzo se mi devo sposare è chiaro che devo preparare qualcosa con qualche mese d'anticipo allora anche lì io ho ricevuto tanti di coloro che lavorano perché poi nel settore wedding c'è un mondo c'è un mondo dal catering al ristorante la ristorazione c'è quello che fa le fotografie c'è chi fa i vestiti c'è la musica allora ne abbiamo ricevuti io anche qui ho l'impressione siano stati dimenticati dal decreto del governo quindi chiediamo al governo lo faremo già da oggi di non dimenticare nessuno e bisogna soprattutto a questi dire ma scusate se le cose cominciano andare meglio nelle prossime settimane e lo verifichiamo giorno per giorno si comincia a dare che magari con un numero contenuto di persone eccetera eccetera io penso da giugno si possa permettere di cominciare a celebrare qualche matrimonio che appunto non può essere l'affollamento come dire responsabile però cominciare a dare un po di ossigeno ad alcuni mondi in difficoltà però ecco dicevo cominciamo a vedere la luce cominciamo a guardare in positivo aiutiamoci perché anche i nostri comportamenti individuali aiutano e speriamo che cominciamo il governo a migliorare alcune cose che potevano essere fatte magari anche meglio però complessivamente si ripara. Cominciamo a vedere la luce la bella stagione che arriva insomma speriamo poi di poter vivere un'estate sufficientemente libera magari ne parliamo un pochino meglio tra un pochino perché naturalmente c'è la pubblicità che incombe ed è il momento di darla 11.25 Riccione ci riporta in riviera ci riporta al mare Stefano Bonaccini che voglia di tornare al mare Stefano Bonaccini presidente della regione di Romagna con noi Stefano un attimo prima di andare in pubblicità abbiamo detto ma la prossima estate sarà vivibile sulla falsa riga dell'estate dell'anno scorso? Io penso proprio di sì anche perché le regole le linee guida le abbiamo scritto l'anno scorso e abbiamo contribuito noi molto a scriverle ascoltando peraltro i romagnoli quando mi dicevano ma cos'è che pensi di fare? Mi dicevo guarda è molto facile andiamo a chiederlo a loro perché operativi ma no ma perché questi si sono inventati un'industria turistica nel dopoguerra dal niente che avevano ed è diventata una delle più apprezzate al mondo perché l'ospitalità i servizi per tutte le tasche cioè davvero in questo gli emiliani e i romagnoli sono qualcosa di formidabile diciamoci la verità e io credo che quest'estate tra mi dicono che gli appartamenti in affitto stanno andando per fortuna molto bene verso gli alberghi cominciano a arrivare le prenotazioni è chiaro che le persone vogliono vedere come sta andando intanto adesso si comincia a permettere io sono uno dei fautori dei convinti sostenitori del pass vaccinale e del green pass europeo da giugno cioè il fatto che se io sono vaccinato o ho avuto il covid e posso testimoniare che sono guarito o faccio un tampone almeno 48 ore prima e dimostro che sono negativo beh perché non andare in quelle attività che capisco che sarebbe giusto tutti potessero ma non siamo in tempo di pace siamo in tempo complicato e quindi meglio che coloro che non hanno timori a contagiarsi a contagiare gli altri possano permettere alcune attività di poter riaprire però sono fiducioso perché ripeto l'estate è un vaccino naturale noi stiamo vaccinando tanto dicevo tra pochi giorni arriveremo a un milione di vaccinati tra prima e seconda dosi miglia romagna confido che entro giugno saremo già due milioni per cui insomma cominciamo a fare sul serio il tema vero è perché avere ancora un po di prudenza perché stavolta a differenza di questo anno quando si riapre bisogna che facciamo in modo che non si chiuda mai più perché abbiamo delle attività allo stremo guardate io ho visto i dati economici dell'emilia romagna disastro le abbiamo fatto vedere l'altro giorno noi alla fine del prossimo anno se abbiamo un po di fortuna potremmo avere un pil cioè produzione di ricchezza esattamente uguale a quella del 2019 in un solo anno e mezzo recuperare il tanto perduto prima e meglio di quasi tutte le altre regioni italiane d'europa però abbiamo alcuni settori facilmente individuabili i pubblici esercizi ristoranti bar tutto il mondo della cultura dello spettacolo della musica di cui non parla quasi mai nessuno il mondo dello sport il mondo del wedding coloro che lavorano nel turismo che sono in difficoltà alcuni addirittura in ginocchio bisogna stare vicino a quelli aiutarli e poi far ripartire l'economia perché ripeto l'emilia romagna a condizioni migliori di altri però dobbiamo stare vicino a questi settori che sono i più in difficoltà e come dire adesso che comunque si comincia a vedere riaperture dobbiamo sostenerli perché non si chiuda mai più e quindi far le cose per con la speranza che gli aiuti si erano un pochino più consistenti di quanto ma adesso sia stato fatto sì sono d'accordo sono d'accordo è piuttosto evidente che hai citato la musica gli spettacoli dico anche lo sport abbiamo visto il gran premio a imola bellissimo in televisione vogliamo vedere un po più di pubblico ce ne saranno tanti altri allora intanto speriamo sia l'ultimo senza pubblico vorrebbe dire che siamo abbiamo sconfitto la pandemia e vorrebbe dire che torna imola perché era 14 anni che non veniva un fatto siamo andati in tutto il mondo con le nostre immagini ci può dire no si sta si è già chiuso l'accordo con la più grande azienda automobilistica cinese la fav è uno dei maggiori gruppi di engineering americani è che questi verranno qui a investire a brevissimo un miliardo di euro che vorrà dire migliaia di posti di lavoro tra diretto e l'indotto qui nel nostro territorio perché vengono qui hanno guardato il mondo perché mica glielo dici tu dove devono andare e hanno detto questa è la motor valley mondiale adesso avremo a settembre il moto gp mondiale l'unica tappa italiana è il moto gp mondiale a misano avremo il 19 maggio juventus atalanta reggio emilia di coppa italia avremo le tappe il giro d'italia perché a metà maggio c'è la piacenza sestola e poi il giorno dopo la modena cattolica e quindi avremo il ciclismo che come dire una delle cose più formidabili come manifestazione popolare avremo l'unica tappa italiana del circuito mondiale dell'iron man a settembre a cervi avremo i mondiali le vecchie world league di pallavolo 32 squadre maschile e femminili le migliori al mondo oltre un mese da fine maggio a fine giugno a imola porteremo un 2 a rimini un 250 di tennis che vuol dire avere campione del calibro di sole sonego forse berrettini la settimana prima del roland garro non so da quanti decenni non c'era una un torneo così importante a monte chiarugolo di parma dal 22 al 29 maggio perché lo sport è un linguaggio universale come la musica sono i due linguaggi che arrivano in tutto il mondo immediatamente oggi con gli strumenti di comunicazione noi promuoviamo un territorio poi certo come dicevi tu io mi auguro comincia se il pubblico dice dal primo giugno il decreto del governo proviamo prima vediamo insomma magari vorremmo fare anche un po di musica dal vivo anche noi di radio bruno magari qualche cosa conosci quella cosa tipo radio bruno estate sai quella bella sana abitudine che va avanti da non so quanti anni sai che io su quello però ho un ricordo noi ci diamo del tuo per un motivo anche perché io sono stato assessore del comune di moda dal 99 al 2006 e decisi da assessore al centro storico allora di portare quattro concerti tutti mercoledì a luglio in piazza grande venivano 20.000 persone non entravano certo uno di queste quattro tappe ogni volta era il radio bruno estate e io davvero dico sempre una cosa orgoglioso a proposito di cos'è l'emilia romagna dico sempre ai miei colleghi ma voi ce l'avete una radio del territorio che batte tutti i network nazionali no ce la sono l'emilia romagna ma è vero non è che dico cose no per dire ma è la verità è un bel vantaggio è così è così e ci conosciamo da allora grazie grazie a stefano bonaccini per essere stato con noi aver risposto un po di domande poi in privata sede separata sede te le facciamo altre perché sono arrivati davvero tantissimi messaggi voi mandatemi poi quelle che riesco scrivo in privato le mail fatemeli avere lo provo a fare grazie 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 mille buon lavoro